L'importante è toglierci questi vestiti di dosso. Eh sì, perché la palla non si nota, no? Possiamo dire che è una specie di piercing. E' una giuvedo qualcuno, magari ci può aiutare. Sì, però lascia parlare me. Scusate, secondo me dovremmo accendereci una sigaretta. Avete per caso una fiamma ossidrica? No, mi dispiace, ma non fumiamo. Ma quello cos'è? Ma come non lo sai? Ma è il MediaMaster 310T, il nuovo decoder Nokia per la tv digitale terrestre. E' il setto box interattivo. Con MediaMaster 310T puoi vedere molti più canali con una migliore qualità audio, con il sistema Dolby Digital. E qualità video come al cinema. Ancora di più, sembra di stare dal vivo. Io veramente preferisco i programmi di evasione. E da usare è facilissimo. Si collega la presa dell'antenna alla tua tv, si accende e poi fa tutto da solo. E poi è interattivo. Puoi rispondere ai sondaggi o partecipare ai giochi. Se lo acquistate subito potete approfittare del contributo governativo di 150 euro. Affrettatevi finché c'è. Conviene, anche perché è già predisposto per tutti i futuri servizi. Certo! Passa in vantaggio con Nokia MediaMaster. Guarda questo notiziero come sembra dal vivo. Già, guarda quel poliziotto, sembra qui. Sembra. Beh, noi avremo momentanemente da fare, eh. Ma tu passa in vantaggio con Nokia MediaMaster.